Eccoci, oggi guardiamo questo ventilatore portatile da collo, cioè va peso al collo come se fossero un paio di cuffie. È interamente in plastica, con la gomma dietro in silicone, è presente il connettore USB tipo C, interruttore per l'accensione, il design non è bruttissimo, ricorda proprio un paio di cuffie e lo proviamo. Allora, per accendere è molto semplice, basta premere il pulsante, il LED ci indica che è acceso, le ventole internamente aspirano aria e viene mandata fuori da queste parti qui. Se premiamo un'altra volta il pulsante aumenta di velocità e ancora, quindi sono tre le velocità impostabili e poi si spegne, ok? Come vedete si indossa come un normale paio di cuffie, l'aria esce da qua e ci rinfresca tutto il viso. Un oggetto sicuramente interessante per chi patisce molto il caldo, ma ho il dubbio che alla lunga, soprattutto alle velocità più alte, quest'aria nel collo possa, diciamo, farci venire dei torcicolli. È disponibile anche in diversi colori, in questo caso verde, quello di prima era nero e oro rosa. Ci deve essere anche bianco, eccetera, quello va in base ai gusti.